Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Entra in vigore in questi giorni in Europa il Digital Services Act. Che cos'è il Digital Services Act? E perché, a nostro giudizio, deve essere sottoposto a una sobria critica ed esta non poche preoccupazioni. Intanto non sfugga questo nome volutamente ambiguo e anodino, Digital Services Act, l'atto dei servizi digitali. E' in sostanza una decisione presa dall'Unione Europea che vuole normare le piattaforme digitali, i colossi del big tech. E ciò a tutta prima non può che apparire una cosa positiva. Finalmente la politica che pone dei limiti a questi signori cosmopoliti, a questi padroni del web che finora hanno agito in una sorta di terra nullius imponendo la loro sovrana volontà e decidendo che cosa bisognava cancellare e che cosa bisognava lasciare, usando spesso i nostri dati a loro piacimento e soprattutto per il loro profitto. Secondo la vecchia formula medievale, quod principi placet vigorem abet legis. Cioè sostanzialmente la legge la decidevano loro secondo la loro volontà. Quindi non può che apparire una cosa positiva tutta prima questa volontà dell'Unione Europea di normare le piattaforme digitali. E tuttavia, sottolineo subito, vi sono dei non trascurabili rischi in questa decisione. Perché l'Unione Europea potrebbe arrogarsi il diritto, come sembra debba avvenire, di rimuovere tutti i contenuti che incitino all'odio secondo la loro narrazione dell'Unione Europea. E quindi mi permetto di dire tutti i contenuti che in qualche modo possano essere variamente critici rispetto all'Unione Europea e ai suoi temi portanti. Perché ovviamente è molto difficile stabilire il confine tra realtà e fake news. Tra incitare all'odio o criticare in maniera pacata. Ora, è ovvio che esistono fake news ed è ovvio che esistono coloro i quali incitano all'odio. E bisogna essere contro le fake news e contro chi incita all'odio. Ma non è nemmeno difficile da immaginare che con il pretesto della lotta all'odio e della lotta alle fake news si vadano poi a colpire tutti coloro i quali portano avanti una visione delle cose diversa rispetto a quella egemonica. Qualificandoli e squalificandoli come portatori di fake news e vengano poi colpiti ugualmente come portatori d'odio tutti coloro i quali criticano aspramente ad esempio l'Unione Europea, il progetto della globalizzazione neoliberale, il nuovo ordine mentale di completamento del nuovo ordine mondiale. Questa è in concreto la preoccupante conseguenza che potrebbe e a mio giudizio dovrà scaturire dal Digital Services Act. Questa è la mia interpretazione e per questo credo che si debba essere piuttosto critici rispetto a questa norma.